Da i vecchi successi di Romagna Mia a Ciao Mare, da Simpatia alla Mazzurca di Periferia, per arrivare poi ai nuovi brani della grande orchestra Casadei. La Romagna è arrivata a Frosolone nella sera di Ferragosto all'insegna del ballo liscio e dei medli più celebri della musica italiana. La beach band di Mirko Casadei è sbarcata in Molise portando sorrisi e divertimento. Sono felice perché abbiamo fatto una serata bellissima, tantissima gente, un grande calore, quindi devo dire che abbiamo fatto un binomio tra l'Emilia Romagna e il Molise, è stata una festa meravigliosa, un Ferragosto doc. Mirko, pronipote di secondo Casadei, figlio del re dell'Icio Raul Casadei, insomma raccogli un'eredità notevole. Sì, una grande eredità perché è una storia lunga, dal 1928, un'orchestra che ha fatto ballare e cantare intere generazioni, è anche una responsabilità, devo dire, ma il pubblico ci vuole tanto bene, quindi devo dire che anche sono facilitato nel mio compito di portare avanti questa tradizione. Sono veramente felice di rappresentare la Romagna, ma anche tutto il movimento dell'Icio e del ballo italiano. Siete un pezzo di storia della musica italiana e appunto al passo con i tempi, innovazione dunque nella tradizione. Da Mirko Casadei, cosa ci dobbiamo aspettare in futuro? Beh, io mi auguro che la storia vada avanti ancora alla grande, sta andando avanti alla grande, abbiamo nel cassetto tanti sogni, tante idee, sicuramente alla base di tutto è quello di portare ancora la musica popolare italiana ad alti livelli, perché c'è stata un'evoluzione nel mondo del ballo, anche con i caraibici, con le musiche latine, con la musica anche della discoteca. Io credo che però la musica della tradizione abbia sempre nel DNA una forza, un coinvolgimento, la musica popolare è quella che fa ballare, fa cantare la gente, quindi sono sicuro che tornerà alla grande. Inoltre, nella band di Casadei c'è un pezzo di Molise con Manuel Petti di Casal Ciprano, che tra tastiera e fisarmonica porta in alto il nome della nostra regione da ben 11 anni. Manuel, come è iniziata la tua avventura con l'orchestra Casadei? È iniziata nel 2006 grazie a un'audizione, devo dire grazie a Mirko che mi ha preso, l'orchestra Casadei oltre ad essere una situazione musicale, una vera e propria famiglia nella quale si sta veramente molto bene. E questo è il segreto, non è solo musica ma anche stare insieme, vivere insieme tutti i giorni, viaggiare con il pullman, viaggiare con l'aereo, condividere tutto, il pubblico ma anche il tempo libero, quindi è una vera e propria famiglia musicale. Grazie per la visione!